Salve ben ritrovati con l'informazione del Tg Blue in apertura ancora una pagina dedicata al maltempo perché è pronta la richiesta per la dichiarazione dello stato di crisi per la regione Puglia lo ha annunciato l'assessore Leonardo Di Gioia. Tutti i dettagli in questo servizio. L'assessore regionale alle risorse agroalimentari Leo Di Gioia ha dichiarato lo stato di crisi per l'agricoltura pugliese. Dopo le forti nevicate dei giorni scorsi molti sono stati disagi procurati nel campo agricolo e dell'allevamento un disagio che è ricaduto su tutto il territorio nazionale con l'arresto di prodotti ortofrutticoli sui mercati provenienti appunto dai territori colpiti anche in particolar modo dalla Capitanata. È pronta la delibera regionale l'ho rendenuto l'assessore Di Gioia che auspica di avere accesso al Fondo di Solidarità Nazionale in quanto i danni sono ingenti. La situazione è gravissima dichiara l'assessore regionale soprattutto nelle zone rurali dalla zootecnia al comparto ortofrutticolo, vitivinicolo, vivaistico e lattiero caseario e risarcire gli imprenditori che hanno subito danni di fronte a questo disagio meteorologico. L'assessore Di Gioia ha già provveduto a dare mandato agli uffici agricoli provinciali per ispezionare e accertare l'entità dei danni. Ma i risarcimenti non andranno a coprire tutti i danni e in tal contesto Di Gioia inserirà nella prossima conferenza delle regioni il punto sull'integrazione di ulteriori strumenti. Sulle richieste avanzate l'assessore regionale è fiducioso su un immediato intervento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e dal Ministro Martina. Restiamo in tema perché per l'emergenza maltempo scende a campo anche l'esercito e sono stati i propri ingegneri dell'undicesimo genio Guastatori uno dei due reparti presenti a Foggia ad intervenire soprattutto nelle zone del nord barese. Anche l'esercito italiano è in campo contro l'emergenza maltempo in Puglia e in Capitanata. Ingegneri all'undicesimo reggimento genio Guastatori di Foggia, unità specialistica alle dipendenze della Brigata Pinerolo, sono infatti intervenuti dopo essere stati allertati dalle prefetture per le eccezionali nevicate che si sono abbattute sulla Puglia negli ultimi giorni. Dallo scorso 7 gennaio gli uomini e le donne dell'esercito stanno operando in tutta la regione e in particolare nei comuni Santeramo in Colle, Matera, Altamura e La Terza rendendo percorribili le strade di maggiore traffico dell'area come la statale 96, la provinciale 18 e il trado la statale 7, dalla terza fino alla statale 15. Ingegneri sono intervenuti più volte anche per liberare le diverse masserie e le aziende agricole che avevano dei disagi a causa della neve. Ingegneri foggiani sono stati anche impegnati nell'attività di rimozione della neve dalle strade hanno soccorso alcuni mezzi in panne rimuovendo quelli che bloccavano le carreggiate provvedendo ad assistere gli automobilisti in difficoltà sulle strade bloccate della neve. Il lavoro dell'esercito italiano ed ingegneri foggiani proseguirà anche nei prossimi giorni quando le prefetture lo richiederanno. Cambiamo argomento, è stata una nottata di lavoro, quella trascorsa per i carabinieri e i vigili del fuoco alle prese con bombe e con incendi. Notte movimentata per i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia e per i carabinieri alle prese con due bombe, un incendio doloso di un'automobile e l'incendio di oltre 4.700 balle di paglia. Il primo intervento è avvenuto a Sanicandro Garganico in via Grammici dove una bomba è stata fatta esplodere davanti alla saracinesca di una macelleria danneggiando anche una parte degli arredi interni. Il titolare ai carabinieri è riferito in aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Alle 5 all'Orta 9 in Vai Gagliani un altro ordigno è esploso davanti all'abilitazione di un tunisino di 40 anni già noto alle forze dell'ordine. La bomba ha danneggiato la porta d'ingresso. Ai carabinieri la vittima ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Pochi minuti dopo, in via Montegrappa, qualcuno ha dato fuoco a un'automobile di un bracciante agricolo di 44 anni. Sul posto i vigili del fuoco hanno trovato tracce di liquido infiammabile. Anche su quest'ultimo episodio indagano i carabinieri. Infine, 4.700 balle di paglia sono state distrutte in un genio avvenuto una notte in un fienile località Pozzo Monaco nelle campagne di Cerignola, di proprietà di due fratelli. Nel fienile, nell'area circostante, sono dotati di videosorveglianza. Ancora raid in istituti scolastici di Foggia. Ieri notte, ignoti dopo aver forzato le finestre laterali, sono entrate in istituto Giannone di Via Sbano. Una volta all'interno dell'edificio scolastico, i ladri hanno portato via generi alimentari e 30 euro dal registratore di casa del piccolo bar che si trova all'interno della scuola. E' sempre in nottata, alcune persone sono entrate anche in liceo artistico perugini. I ladri, dopo aver forzato una porta di un piano superiore, sono entrati nella scuola danneggiando altre porte, molto probabilmente per forzare la serratura. I ladri sono poi fuggiti portandosi via un computer. Su entrambi i furti indaga la polizia. E' ancora un atto vandalico ai danni del monumento al viaggiatore in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione a Foggia. La statua del maestro Leonardo Scarinzi, donata dal Rotary Club alla città, come omaggio a chi è rimasto e tornato a Foggia, era stata già oggetto in passato di altri danneggiamenti. Questa mattina è comparso un vistoso squarcio nel retro della statua, in corso indagini per cercare di risalire agli autori del danneggiamento. Una conferenza stampa per presentare il bilancio positivo delle attività svolte nel 2016 da Amgas. Abbiamo intervistato il presidente della ex municipalizzata del gas, Pierluca Fontana. Ascoltiamo. Una conferenza stampa per comunicare alla città i risultati di un anno di attività di Amgas. Assolutamente sì. Questo 2016 è stato un anno importante per la nostra azienda. Il CDA da me presieduto ha avuto l'orgoglio di assumersi questo impegno e di traguardare gli obiettivi primari, che sono quelli del rispetto degli vincoli, del piano di ristrutturazione, l'ottenimento delle premialità da parte dell'autorità per l'energia elettrica, il gas che controlla gli standard di sicurezza da noi raggiunti, e il mantenimento dell'ISO 9001, che è la qualità che è essenziale per la nostra attività. Ma il CDA, da me presieduto, è andato ben oltre. Ha voluto traguardare anche altri obiettivi. Abbiamo sottoscritto una convenzione con l'università, che ci ha permesso di offrire a tutti gli studenti dell'Università di Economia, del Dipartimento di Economia di Foggia, un tirocinio aziendale. Abbiamo sottoscritto una convenzione, portata avanti ancora tutt'oggi, con l'Arma dei Carabinieri, che ci ha aiutato nella delicatissima operazione di disalimentazione dei morosi. Nel 2015 sono stati disalimentati circa il 5% dei morosi. Nel 2016 abbiamo ottenuto più del 60% di disalimentazione. Cosa significa questo? Questo ci ha permesso di abbattere di oltre il 300% il rischio di sanzioni da parte delle autorità. Abbiamo chiuso l'importantissima e delicatissima partita del contenzioso con i dipendenti, sospesa dal 2010. Siamo intervenuti nell'ammodernamento. Abbiamo consegnato alla città la cabina Remi di Primo Salto, quella a settembre che abbiamo inaugurato. Abbiamo bonificato l'amianto che era presente nel sito. Quindi abbiamo reso l'ambiente di lavoro più sicuro, oltre che tecnologicamente più innovativo. Quindi questo è un CDA che ha voluto andare oltre il confine dell'ordinaria amministrazione, in vista anche delle sfide che ci aspettano nel 2017. E adesso andiamo a Sansevero, perché nel periodo natalizio l'amministrazione comunale aveva lanciato in via sperimentale l'area pedonale su due vie, Corso Garibaldi e Via Solis, ma i commercianti della zona di Confesercenti non ci stanno. Il comitato spontaneo dei commercianti di Sansevero contro l'area pedonale, che tra l'altro è stata anche sperimentata nelle festività. Cosa chiedete, o meglio, come è andata questa sperimentazione? Allora, la sperimentazione è andata malissimo, anzi, noi non pensavamo che andasse così male come è andata quest'anno. In realtà la sperimentazione è un'altra parola che ci è piovuta addosso senza che noi sapessimo niente. Il 14 di novembre abbiamo avuto la notizia di una delibera e ci siamo accorti che sulla nostra zona gravava questa sperimentazione che subito, all'improvviso, noi ci siamo allarmati perché già sapendo che era un periodo di crisi, questa crisi che ormai sta durando dal 2008 e non si plaga, e quindi noi veramente non abbiamo capito quali erano i motivi per ulteriormente affossare noi commercianti in un periodo dove noi dovevamo tirare su qualcosina in più. Confesercenti sta accompagnando i commercianti di Sansevero a chiedere che questa pedonalizzazione non penalizzi gli stessi commercianti. Sì, è una richiesta che a gran voce i commercianti hanno fatto già da tempo, non prima perché si verificasse la pedonalizzazione perché è stato un provvedimento piovuto così addosso senza che abbiano saputo alcunché e che ha generato già dai primi giorni delle perdite enormi e nonostante le continue richieste da parte degli operatori, da parte nostra che non siamo stati mai incontrati, da parte nostra l'amministrazione ha voluto procedere comunque con questa sperimentazione in un periodo dell'anno in cui ahimè le imprese cercano di risalire da quello che è successo durante l'anno a causa della crisi e che comunque sarebbe servito per mantenere il regime per questi altri mesi insomma nei mesi di magra. E adesso parliamo di cinema perché tornano gli appuntamenti cinematografici di Cinema Felix nell'auditorium Santa Chiara di Foggia dunque cinema d'autore e anche qualche novità per questa nuova stagione. All'auditorium Santa Chiara tornano gli appuntamenti di Cinema Felix il circolo di cultura cinematografica foggiano ad aprire il nuovo ciclo di incontri ieri Down by Di Leo della regista Deborah Farina il film è dedicato a Ferdinando Di Leo regista, sceneggiatore e scrittore di San Ferdinando di Puglia considerato un maestro del cinema noir un uomo della nostra terra che avrebbe compiuto 85 anni proprio l'11 gennaio. La proiezione della pellicola su Di Leo è stata preceduta da quella del cortometraggio istantanea realizzato da due emergenti registi locali Vito Marchitelli e Pasquale Tomaiuolo musicato da Angelo De Cosimo Luca Sanguinetti e Andrea Pontone Novità di Cinema Felix è il ritorno delle rassegne organizzate da Mauro Palma del falso movimento un ritorno quello di Palma che avviene a distanza di 8 anni dopo che la Dioce si aveva deciso di non rinnovare il contratto di gestione della sala farina Il falso movimento riparte quindi la prossima settimana dall'auditorium Santa Chiara con una programmazione che arriverà fino all'estate e con rassegne dedicate al cinema sudamericano alle donne e al cinema di animazione rassegne di prestigio e di grande richiamo con film colpevolmente trascurati dai circuiti delle multiplex come il cattivo illustre film che è l'argentina candidato al premio Oscar E adesso parliamo di libri perché il questore di Foggia Pier Nicola Silvis torna alla grande passione che l'ha reso noto negli anni scorsi alla grande pubblico di lettori di Gialle e di Thriller lunedì prossimo infatti alla 19 nella sala fedora del teatro Umberto Giordano Silvis presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo Formiche della SEM edizioni all'incontro sarà presente anche il produttore della Repubblica di Foggia Leonardo Leone De Castris e il direttore editoriale Sam Antonio Riccardi adesso il calcio con la pagina naturalmente dedicata al Foggia Il mercato del Foggia non finisce qui la società rossonera non lascerà nulla di intentato pur di arrivare all'obiettivo fissato ad inizio stagione così uno dei due patron del Foggia Calcio Federe Sannella anche a nome per conto dell'altro patron Massimo Curci dopo aver chiuso l'operazione di piazza terzo acquisto rossonero seguito a quelli di Faber e Deli stiamo mantenendo la promessa di consegnare a Stroppa per la ripresa del campionato una squadra più forte e competitiva e non è finita qui continua rinforzare la rossa attuale vuol dire anche non cedere i calciatori forti come Vacca e Chiricò chiesti da Palermo e Parma Vacca è un punto fermo del Foggia un giocatore per noi imprescindibile con in testa una sola cosa conquistare la promozione con il Foggia lo stesso vale per Chiricò infine capitolo cessioni vogliamo dare a chi è stato utilizzato poco l'opportunità di trovare spazio in qualche altra squadra molti sarebbero titolari in quasi tutte le altre società di Lega Pro ed è giusto che vadano a giocare sono tutti ragazzi che hanno a cuore questi colori ma per il loro bene e le loro carriere saranno ceduti bene è tutto per questa edizione vi ricordo subito dopo la sigla l'appuntamento quotidiano con l'altra campana il nostro spazio di approfondimento curato da Alessandra benvenuto l'ospite di oggi è Giovanni Russo botanico nonché lo scopritore della orchidea fantasma dunque appuntamento subito dopo la sigla e vi ricordo che tutte le notizie ai nostri servizi li potrete seguire anche sul nostro sito teleblu.tv o sulla nostra pagina di Youtube Teleblu Foggia è davvero tutto grazie di averci seguito buon pomeriggio a voi tutti arrivederci